Via, via, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via, via, neanche questo tempo grigio. Eccoci a Dallo Specchio, ciao da Valentina Magazzù, mi trovo in compagnia di un notissimo artista, un attore televisivo, cinematografico, teatrale, doppiatore, direttore del doppiaggio italiano, è una delle voci più belle e calde che le nostre orecchie possano sentire, rivelo la sua identità, lui è Francesco Pannofino. Ciao, grazie, è una presentazione onorevole. Ma è minimo, perché è davvero così. Grazie ancora per aver accettato questa mia intervista. Dunque, Francesco Pannofino lo conoscete tutti, insomma, è la voce ufficiale di George Clooney, Denzel Washington, Mickey Rourke, Tom Hanks in Forrest Gump, Jean-Claude Van Damme, Antonio Banderas, insomma, questi solo per citarne alcuni. Ma insomma, Francesco, visto che tu sei un grandissimo attore, un grandissimo doppiatore, come è cominciata la tua Florida e brillante carriera? Prima come attore o come doppiatore, appunto? Diciamo in modo parallelo, perché ho cominciato quando avevo 19 anni e facevo così, perché me l'ho trovato con degli amici a fare teatro, magari professionale, per le scuole, faremo anche delle recite abbastanza soddisfacenti. E nel frattempo, in quegli anni, cioè alla fine degli anni 70, purtroppo per me, che sono grande, in quegli anni arrivarono le tv private, il fenomeno che prima non esisteva in Italia, e arrivarono e cominciarono a portare un sacco di materiale da editare, come si usa dire, cioè da doppiare, delle novelle brasiliane, venezuelane, argentine, serie di cartelle animali che venivano da tutto il mondo, insomma, e in quel momento appunto il doppiaggio aveva bisogno di nuova forza lavoro. E di nuovi talenti. Esatto, e io come tanti altri cominciamo proprio in quel periodo a fare le prime cose, il doppiaggio. E quindi ci fu questa grande infornata, poi qualcuno è rimasto, qualcuno ha smesso, comunque ci fu questo fenomeno di lavoro, è partito, e tra l'altro il doppiaggio mi ha dato anche la possibilità di poter continuare a fare questo lavoro, perché come sai meglio di me, quando cominci non è così facile, insomma, non è che stanno aspetto a te, e quindi è vero, però chi è ben preparato come lo sei tu. Sì, bisogna prepararsi e soprattutto cominciare da giovani, secondo me, che è un bel segreto. E quindi ecco, bello, mi hai dato l'idea di chiederti se vuoi dare un consiglio a chi decide di accostarsi un po' a questo tipo di mestiere. Guarda, secondo me intanto bisogna cominciare da giovani intorno ai vent'anni, così, perché si ha più la faccia tosta per proporsi, poi quando cresci c'hai tante mila problemi, eccetera, eccetera, è come imparare le lingue straniere, se le impari da giovane è meglio, cioè lo fai prima anche. E poi soprattutto cercare dentro di sé il talento, cioè stabilire se uno, perché per farci un lavoro bisogna esserci portati, bisogna avere comunque un talento, una capacità che poi si può affinare con lo studio, con il lavoro stesso, poi non si finisce mai di imparare naturalmente, però bisogna avere un talento di base, esserci portati, capito? E questo solo la persona, solo la persona interessata può saperlo, perché le prime volte si può anche sbagliare, non è che è il primo ostacolo, bisogna fermarsi, però bisogna avere il talento, cioè bisogna esserci portati. Per esempio io da bambino, dicevo le poesie, facevo le imitazioni dei parenti. Ma dai, scrivi anche delle poesie lo stesso. No, no, dicevo le poesie. Ma le recitate, quindi? Cioè, quando andavo a scuola, se c'era la recita, poi c'erano sempre il protagonista. Cioè, quindi voglio dire... E ho qualcosa che ti porti dentro da ragazzo. Sì, che ce l'ho portato, che ti diverti a fare le imitazioni, a raccontare il barzelletto, voglio dire, non sempre, perché... Sicuramente primeggiavi. Comunque, poi c'è la timidezza che gioca anche un ruolo importante. Tante volte ci sono i talenti veri che però per timidezza non riescono a esprimersi. Tu come ti consideri? Io ero super timido, ero adesso ormai purtroppo sparita completamente. Perché magari con l'esperienza... No, il teatro ti fa saltare quell'ostacolo che è la timidezza. Perché una volta che tu sei timido davanti a una persona, ma invece davanti a mille persone non lo puoi essere. Rompi il ghiaccio e vai. E io mi ricordo proprio il momento in cui fece uno spettacolo, uno dei primi che ho fatto, che erano degli atti unici di Chekhov divertenti, e lo facevamo per le scuole. C'era un casino in teatro, puoi capire, i ragazzi che fanno un bordello incredibile. Però riuscivi a trovare comunque la tua concentrazione. Concentrazione poi piacevo molto ai ragazzi, quindi ai giovani che rivevano quando io entravo. Deve essere splendido il rapporto tra appunto gli attori, e il pubblico. Esatto, allora lì io mi sono convinto che potevo fare questo lavoro, poi da qui a farlo in modo professionale, un po' di tempo è passato, un po' di fortuna che non guasta, non bisogna mai buttarla al vento e poi... E impegnarsi al massimo. Questo è anche un altro dei segreti, cioè ogni volta che uno è chiamato a fare una cosa anche piccola, dare il meglio di se stessi in quel momento, non prendere mai sotto gamba e impegnarsi. Perché chi poi ha il potere, cioè i registi, i produttori, che hanno il potere di scritturarti, apprezzano molto l'impegno, apprezzano... Cioè ci sono anche dei casi in cui ci sono raccomandati, ma quello non è che è normale, non dovrebbe essere però... Quindi se uno vale, prima o poi va, capito? Perché c'è bisogno di gente che faccia poi gli spettacoli... E poi prima o poi ci si accorge dei talenti veri. Appunto, esatto. Poi un altro segreto è non far perdere troppo tempo, soprattutto sul set, quando c'è un film, se tu arrivi e la sai, e sei preparato e la fai subito, il produttore ti adora, perché il tempo è denaro, come si sa. È vero. E senti Francesco, visto che appunto tu hai tantissima, tantissima esperienza nell'ambito del doppiaggio, del teatro, del cinema, delle fiction, quindi produzioni televisive, poi dai appunto quest'anima interpretativa a numerosissimi attori di madrelingua straniera, quindi un artista proprio davvero completo a 360 gradi. Ci vuoi dire quali sono secondo te le peculiarità di ognuno di questi ambiti? Sì, è una bella domanda, perché sono specializzazioni di comunicazione diverse tra loro, anche se poi alla fine l'attore, sempre battute deve dire, al doppiaggio le leggi che non c'è bisogno di imparare a memoria, a teatro devi imparare a memoria tutto, il copione, fare un mese di prove e poi andare in scena, al cinema fai 30 secondi di film al giorno, un minuto, poi le varie ripetizioni, le varie ripetizioni, eccetera, anche lì bisogna essere preparati e concentrarsi all'ultimo momento. Avrai una memoria di ferro? Beh, per quanto riguarda il teatro in cinema. Sì, ma la memoria è un muscolo che si, più lo alleni e più le memoria hai, cioè la memoria è veramente una questione di abitudine, l'esercizio è importante. Di allenamento, sì. E poi ecco, ieri ero al telefono con una mia cara amica, dicevo domani devo intervistare Francesco Fannofino, che bello, non vedo l'ora, uh Boris, io lo vedevo sempre Boris, insomma, ovviamente. Per esempio, quello che è stata anche una delle mie fortune, diciamo, lì c'era un personaggio che era mio, René Ferretti, era talmente, ce l'avevo talmente dentro, che io non facevo nessuna fatica a imparare a memoria, e ce l'avevo anche delle sleppe, delle pagine e pagine di monologhi, però non facevo, perché era scritto, in maniera semplice, in merito degli autori, cioè era facile da imparare a memoria, vuol dire che il personaggio ce l'ha in pugno, quando fai fatica, che c'è qualcosa, oppure la battuta non ti viene, vuol dire che non è scritta bene, oppure c'è qualcosa che non fa. E non è fluida, abbastanza fluida. c'è sempre un problema, di solito. Ma infatti, tutti quanti i telespettatori abbiamo apprezzato la tua interpretazione davvero naturale al masso, ma appunto tu interpretavi il ruolo di un regista, ma hai mai pensato di fare il regista anche? Sì, ci penso, non è che sono ossessionato, ti ci vedrai benissimo. No, lo farei volentieri, però l'ho anche fatto, facendo il direttore di doppiaggio, oppure alla radio, ho fatto la regia di alcune puntate di un programma a cui partecipavo, però la parte che lavoro tanto come attore non ho mai tempo neanche, perché per fare il regista comunque devi avere tempo per preparare, e poi aspetto di avere un'idea forte per poter... Ecco, qualora ce l'avessi, io concorro per poter essere scelta nel suo cast. Sì, grazie, grazie Francesco, ma bando agli scherzi, che comunque gli farebbe piacere realmente. Parliamo invece di Nero Wolf, che anche quella è una produzione televisiva fortunatissima. Nel 70 so che era partita una precedente edizione, subito dopo il libro praticamente di questo romanzo. Beh, Rex Stauto, che è l'autore che ne ha scritti più di 20, con il personaggio di Nero Wolf al centro. Un investigatore privato che... Sì, l'ha scritti in un arco di tempo di parecchi anni, dal dopoguerra, diciamo, fino agli anni 60-70. Poi ne fece una serie... Tino Boazzelli. Tino Boazzelli, Paolo Ferrari. Tino Boazzelli e Paolo Ferrari, sì, che erano Nero Wolf e Archie Goodwin, i due protagonisti. Però poi è stato chiesto a te di interpretarlo nel 2012. Sì, ma questo appunto, dopo 40 anni, 50 anni, dalla prima realizzazione, io e Pietro Sermonti facevamo appunto Nero Wolf e Archie Goodwin. Con cui, scusa se ti interrompo, avevi già lavorato in Boris. Sì, con Pietro in Boris, sì, che lui faceva l'attore, Stanis La Roscella, un attore, diciamo, non proprio geniale. Però a Pietro è un grande compagno di lavoro, ci ha fatto tante puntate di Boris e anche di Nero Wolf. Insomma, adesso è un po' che non ci vediamo, però ogni tanto ci mandiamo i saluti. Ecco, anche lì, no, Nero Wolf, molti facevano il rapporto con Tino Boazzelli, ma era un'altra televisione. Allora, prima di cominciare, prima che andasse in onda il nuovo Nero Wolf, tutti facevano il paraguono con Tino Boazzelli, qua e là, per carità, con tutto rispetto, ma era proprio un'altra storia. Certo, infatti volevo chiederti quali erano le innovazioni apportate a questa nuova, invece, serie? Intanto era colori, invece allora era girata in bianco e nero, era girata tutto gli studi di Via Teulada, quella della versione degli anni 60, e la nostra è stata girata in studi, io la chiamo a De Paulis, la chiamiamo lo studio, via di Burtina, e giravamo tutti gli interni lì. Gli studio. Sì, poi la storia di Nero Wolf era ambientata a Roma, nel nostro caso, invece si sa che i romanzi, anche la storia è ambientata a New York, lui abitava in una casa di arenaria, come si dice, e invece con un escamotaggio, siccome c'è un fondo di verità, perché Rex Stout, l'autore, fece durante la guerra, è stato a Roma, ad un ufficiale di complemento, e quindi, diciamo, per un problema con l'FBI, gli autori hanno stabilito che Nero Wolf per un periodo era venuto a Roma e continuava la sua attività di investigatore, era anche più facile per poterlo aggirare, perché poi chiami gli autori italiani che porti a New York a girare Nero Wolf non era molto congruo, invece così, e devo dire che è andata bene. E come, ha avuto davvero un successo, ne meritaissimo. Ma parliamo adesso un pochino, visto che allo specchio consente ai nostri telespettatori, qui appunto di Tele One, canale 19, lo ricordo, quindi copertura regionale, consente a tutti i nostri telespettatori di conoscere un po' meglio, un po' più nel personale, un po' più nell'intimo, i nostri artisti, coloro che si rendono disponibili per le nostre interviste. E allora vorrei farti qualche domandina un po' più privata. Dunque, tu sei sposato con la bellissima, bravissima, altrettanto bravissima, attrice, doppiatrice, Emanuela Rossi. Esatto. Quindi condividete la quotidianità, anche molto spesso le sale di doppiaggio, i palcoscenici teatrali, insomma, com'è lavorare con la propria compagnia di vita? Guarda, ti dico che noi, io e Emanuela, andiamo molto più d'accordo in scena che nella vita. Oh, dai. Soprattutto condividiamo un figlio che abbiamo insieme, che si chiama Andrea. Ecco, come si chiama? Andrea. E ha 19 anni. e come tutti i giovani, soprattutto in questo periodo, vive dei disagi, dei disagi, diciamo, dal punto di vista del, del non saper fare, cosa fare nella vita, ha finito la scuola, eccetera. Che studi? Che studi ha fatto? Ha fatto il liceo scientifico. Adesso si è preso il famoso anno sabbatico. Eh sì, così magari riflette un po' sull'anno sabbatico. Però sai, essendo nato a dicembre, diciamo che non è così, non perde così tanto tempo. No, ha provato anche a fare qualche cosa, sì, da cinema, abbiamo fatto delle cose insieme. E anche il doppiatore, no? Sì, ogni tanto fa qualche turno di doppiaggio. Non so se è quello che vuole fare lui, ma lo deve decidere lui. È vero, bisogna sempre, insomma, lasciare libere le scelte dei propri figli, insomma. Esatto, e anche i libri di sbagliare nei limiti del decente. Logico. Per quanto riguarda Emanuela, sì, questo è il terzo spettacolo che facciamo insieme. Diciamo che ci troviamo bene dal punto di vista poi, lei è una grande professionista, non c'è un problema in scena, insomma, bene. Poi avrete sicuramente un feeling maggiore dal momento che vi conoscete molto bene. Sì, sì, non c'è un problema. Insomma, dal punto di vista proprio dei ritmi, dello stadio, insomma, della confidenza che c'è, no? A un certo punto, diciamo che poi, però, è sempre lavoro. ognuno mette in campo le proprie... E poi a casa ripassate un po' le battute insieme, di cose del genere, no? Ognuno studia e si concentra per fare... No, a casa meno si parla di lavoro, è meglio. È vero. E quindi, a proposito, perdonami sempre, di domande intime, diciamo, un po' più personali, mi verrebbe da chiederti di parlare del tuo carattere in modo più... proprio con uno spirito di autocritica, parlare del tuo carattere e di chi è Francesco Pannofino, come uomo? A parte il fatto che nessuno di noi si conosce fino in fondo, però io, diciamo che con l'età, qualche cosa, più cresci, più passano gli anni e più capisci cose di te stesso, come prima non capivi. Ma io sono, credo, abbastanza accomodante e cerco di vivere bene, cioè senza tensioni, senza ansi, perché la vita, per quanto mi riguarda, credo che sia una sola. E quindi... Apprezzare ogni momento. Apprezzare ogni momento, cercare di... Poi, sai, la vita non è mai sempre facile, purtroppo, ci sono degli ostacoli a superare, dei problemi che ti possono porre davanti da un momento all'altro. Appunto, cerco intanto di godermi questo fatto che faccio il lavoro che mi piaceva, che avrei voluto fare da bambino e questo è già una fortuna incredibile poterlo fare veramente. È il sogno che si realizza e che non è facile. Poi dopo, la realtà è sempre diversa dall'immaginazione. Non voglio dire che sia più bella o più brutta. Però io amo molto il mio lavoro, devo dire che è... E quindi lo si fa proprio al meglio. Sì, perché mi protegge, mi fa passare il tempo. Da chi ti senti più protetto in assoluto? Ma intanto da me stesso, perché se non ti proteggi da solo è difficile. No, poi ho i miei affetti diciamo, della vita. La tua famiglia. La mia famiglia. Insomma, mi sento abbastanza protetto, ma anche dal pubblico, perché il pubblico mi... bello dal pubblico. Sì, mi vuole bene, perché io sono sempre onesto nel mio lavoro. Cioè, cerco di dare il massimo e si vede, me lo dicono, non è che me lo invento. Ma è vero. E si vede. E appunto, il pubblico apprezza la persona che si impegna, capito? Poi, naturalmente, non tutte le ciambelle riescono col buco, ma anche io ho fatto degli spettacoli che non erano proprio bellissimi. Può capitare, anzi, proprio da quelli che si impara a non sbagliare più. E devo dire che comunque le persone... il pubblico mi vuole bene, lo vedo perché faccio teatro tutti gli anni, non solo a Roma, anche in tournée, e quindi in tutte le parti d'Italia. C'è questo denominatore come l'affetto che ti arriva? lo vedo, una percentuale di persone che vede lo spettacolo poi mi aspetta quando esco dal teatro per ringraziarmi, per fare la foto, entra nel merito, li vedi dalle facce che sono contenti. Come lo sono anche io adesso. Ecco, brava, si vede proprio. E quindi, io sono contento per questo. Complimenti, Francesco. Ma ovviamente adesso ti trovi qui nella nostra amata Palermo perché con appunto tua moglie Emanuela Rossi di cui parlavamo poco fa porti in scena tutte le sere fino al 19 marzo, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, al teatro al massimo appunto di Palermo i suoceri albanesi. E che poi a proposito delle emozioni che vivono gli spettatori in sala, si passa da risa a commozioni, ce ne vuoi parlare un po'? È una commedia molto divertente, scritta da Gianni Clementi che è uno degli autori italiani più vulcanici del momento, cioè uno veramente che ogni anno ha 4-5 spettacoli in scena. La regia Claudio Boccacini. La regia di Claudio Boccacini, regista con cui collaboriamo da tanto tempo ed è una squadra che vince perché Gianni ha scritto una commedia proprio per noi la scritta due stagioni e mezzo fa. Ah, proprio pensando a voi due cioè che voi due poteste interpretare i protagonisti? Sì, dovevamo fare con Emanuela lo spettacolo alla Sala Umberto e ci rivolgiamo a Gianni Clementi che subito ripreso all'opera ha scritto questa delizia veramente i suoceri albanesi perché è una storia dove la gente ride molto, si diverte per quello che succede ma non solo si diverte si immedesima. La trama più o meno ce la puoi raccontare? Sì, sono due mariti e moglie diciamo abbastanza borghesi uno è un politico un assessore regionale comunale un consigliere comunale però di vedute diciamo progressiste chiamiamolo così e la moglie è un'altra impegnata politicamente ma che in questo periodo ha la passione per la cucina molecolare che va abbastanza di moda quella dove non si mangia niente esatto poi si resta di più quindi questo meccanismo porta l'irarità in casa perché io essendo di stazza piuttosto notevole si vede che a me piace mangiare capito? invece nella gomme non si mangia questo crea una sofferenza che fa molto ridere il pubblico comunque i due genitori hanno a che fare con una figlia di sedicenne molto ribelle come sono spesso i ragazzi sì, è vero alla fine si finisce per non conoscersi e la ragazza è molto ribella scostante maleducata con i genitori eccetera i genitori poi alle prese con le proprie attività eccetera con questa figlia incredibile e quando si rompe il bagno di casa e vengono chiamati due albanesi per fare il lavoro per fare il lavoro per fare le strutturazioni il più giovane dei due sono due fratelli il più giovane ha la storia con la nostra figlia allora da che predicare l'accoglienza la solidarietà l'aprirsi agli altri bla 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 e bla 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 quando il problema poi te lo trovi in casa cambiano le prospettive poi non si sa che piaci prendere esatto i punti di vista gli imbarazzi le situazioni paradossali tutto questo crea un'inalità incredibile per le situazioni imbarazzanti che si vengono a creare poi naturalmente vince il buonsenso e le cose si mettono a posto e devo dire che la gente esce da teatro non senza spunti di riflessione lo immagino avrà proprio una morale molto importante sì la riflessione c'è uno dice che farei io al posto loro come mi comporterei ci si medesima sì un po' sì devo dire che merito dell'autore di Gianni Clementi e merito anche nostro che l'abbiamo decisamente abbiamo fatto vivere dei fogli di carta scritti poi gli attori li fanno vivere e lo fate egregiamente la situazione sì sì devo dire che sono tre anni che giriamo con questo spettacolo ce lo chiedono in tutta Italia quindi vuoi dire che è bello è decisamente sì se no se le fai cose brutte ti le chiedono ti fermerebbero assolutamente ma non abbiamo dubbi adesso invece come di consueto verso la fine del nostro appuntamento della nostra intervista chiedo sempre all'artista che ho l'onore di intervistare di scrivere una frase così d'amblese con questo piccolo quadernetto che conservo gelosamente c'è il segno proprio nel punto libero ecco qua e ti invito a scriversi e dove vuoi anche sulla parte sinistra dove ti pare? e scrivere un qualcosa che ti possa venire in mente adesso e che vuoi è così donarci intanto stiamo facendo andare in onda alcune immagini che ti riguardano ecco wow grazie Francesco leggi pure sono stato bene qui come a casa mia a mio agio grazie Valentina e grazie Palermo per l'accoglienza e l'ospitalità viva Palermo ma grazie a te e dai che bello che bello grandioso e allora ti saluto ti ringrazio ancora grazie a te e alla prossima comunque ci vedremo al teatro non vedo l'ora di conoscere anche Emanuela va bene ti aspettiamo grazie salutiamo i telespettatori di Allo Specchio ciao Francesco Pannofino ciao allo specchio bello grazie it's wonderful it's wonderful it's wonderful it's wonderful good luck my baby it's wonderful it's wonderful it's wonderful I dream of you chips chips ganci bar rosticceria cornetteria gelateria gastronomia vienici a trovare siamo in via Agrigento 13a Palermo ice garden bar trattoria pizzeria menù pizza di pesce 20 euro di carne a 18 euro a persona giro pizza 10 euro ci troviamo in via Vittorio Alfieri 6a piano dell'occhio torretta